Sonia Bruganelli a gamba tesa su Antonella Fiordelisi che al grande fratello VIP7, dopo una partenza convincente, si sta rendendo protagonista di una serie di comportamenti discutibili. L'opinionista del reality show di Canale 5, intervenuta ai microfoni di casa a chi? Si è esposta. Naturalmente nel suo stile. Cioè in modo direttissimo e senza fare alcuno sconto. Così ha consegnato un ritratto della giovane influencer tutt'altro che positivo. Attaccandola su diversi fronti e arrivando persino a dire che se fosse la madre di Edoardo Donna Maria avrebbero dovuto fermarla dall'entrare nella casa più spiata d'Italia con un lanciafiamme. La moglie di Paolo Bonolis ha esordito sostenendo che la Fiordelisi sta seguendo la medesima parabola di parecchi altri influencer. Non una parabola di cui andare fieri e da cui prendere esempio. Sempre secondo il briganelli pensiero. È uscita fuori Antonella ha dichiarato Sonia. All'inizio si è portata i fan come tutti quelli che sono molto seguiti sul web. Poi devono mantenere una coerenza con l'album che fanno vedere su Instagram. Ed è molto più complicato. Uno pensa sempre che si dimentichino delle telecamere in realtà non è così. Esasperano e ancora. Si immedesimano in quello che vorrebbero essere e fanno delle figure terribili. Antonella è una di quelle. È divertente averla in casa ma non riesce a prescindere dal ruolo che ha deciso di avere. In casa. Antonella è una che tu lanci il reagente e lei automaticamente reagisce in quella dinamica lì. È abbastanza basica. Elementare. Tu sai già.